Ciao, io sono Samuele. Oggi sono qui per invitarvi ai corsi di musica per bambini. E questa bellissima scuola che è il Music Hall! Bambini, potete anche venire a fare un botto, un mare di strumenti musicali, tipo la batteria, che è quello che faccio io, la chitarra, il pianoforte, il violino, il sassofono, flauto e clarinetto, il basso. E poi potete anche imparare a cantare. Oltre a imparare il vostro strumento, possiamo anche partecipare a tanti laboratori dedicati ai bimbi. Come il laboratorio di tucco dei bambini, oppure la musica insieme dei bambini. Dai, facciamo proprio la band! E il coro anche dei bambini. Mi raccomando, vi aspetto tutti qua! E ricordate che la musica fa bene all'anima! Vi aspettiamo! E ci divertiamo!